Si è svolta domenica mattina presso Piazza della Repubblica vicino ai portici comunali la manifestazione, la tenda della solidarietà organizzata dall'Associazione Puglia di Destra in collaborazione con la Fondazione Tartarella e numerose associazioni locali. È stata una raccolta di generi alimentari, medicinali e prodotti per l'igiene destinata ai più bisognosi. Tra l'altro tutto quello che è stato raccolto è stato consegnato alle varie associazioni di volontariato che hanno aderito all'iniziativa e che hanno assistenza per i poveri e gli immigrati di Cirignola. Per la portavoce dell'Associazione Puglia di Destra, Laura Raffaelli, ha specificato che non si tratta di una manifestazione di colore politico ma esclusivamente di solidarietà. Il buon cuore dei cirignolani ha saputo dimostrare con generosità la loro presenza a questa iniziativa. Tantissimi tra giocattoli, cappotti e generi di prima necessità sono arrivati nella conservazione consapevolezza che Cirignola, quando c'è la solidarietà in campo, è sempre presente. Mimmo Siena, speciale news da Piazza della Repubblica, Cirignola, Foggia.